è da tanto tempo che hai questo blocco quando se tu non avessi avuto come magari ti saresti già mostra più veloce potessi essere libera da questo sia felice chiudi gli occhi a 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 Grazie a tutti. La persona si lascia andare come un mondo magico, in un'altra realtà, questi toccamenti piccoli, infatti si è ancora lasciata andare di più, lei sotto un certo punto di vista è via via più all'interno. Di se stessa. La persona si lascia andare come un mondo magico. La persona si lascia andare come un mondo magico. La persona si lascia andare come un mondo magico. La persona si lascia andare. La persona si lascia andare.